RAI, RADIO 3 LE MUSICHE DELLA VITA Dagli studi di Radio 3 RAI, buona domenica, domenica 30 ottobre 2011, dalle Musiche Dalla Vita, da Emanuele Trevi, da Diana Vinci, la curatrice del programma, la regia Valerio Giannetti, oggi è con noi in studio Giuseppe Formisano e ovviamente Silvano Agosti è arrivato. Ci sono per noi delle Musiche Della Vita dei mesi speciali perché contemplano, il calendario contempla 5 domeniche e quindi consuetamente di solito i nostri cicli già lunghi di interviste durano per 4 puntate, è il quinto incontro con Silvano Agosti che la quinta volta saluto e ringrazio di essere qui con noi. E se Agosti mi permette, io ormai ho una piccola tradizione, intanto ricordo il numero per inviare i vostri messaggi che è il 335 5634 296. Assolta questa incombenza, volevo proiettarmi nella Chirghisia, caro Agosti, siamo sempre un po' qui e un po' là per merito del suo libro. Le lettere della Chirghisia, che ricordo sempre con piacere, sono pubblicate dalle edizioni L'Immagine. A contraltare di tanti dibattiti un po' economici che poi sembrano solo riguardare nomine a posti importanti, volevo proporre un'altra scheggia di saggezza, è un dialogo tra il viaggiatore e il protagonista, nel senso il testimone della Chirghisia, che si stupisce perché in Chirghisia i pasti sono gratis, c'è per tutti un pasto gratis ogni giorno e l'abitante, che poi è un ex ladro, gli sembra normalissima, alla domanda come fai per mangiare risponde vado al ristorante. Nel nostro paese tutti mangiamo gratuitamente un buon pasto al giorno, con i soldi che si spendevano per le armi, le prigioni, i tribunali, le guardie del corpo, i poliziotti, gli insegnanti, le sigarette, l'alcol, le prostitute, i ministri e i deputati, si possono nutrire gratuitamente con un abbondante pasto quotidiano tutti gli abitanti del paese. Sembra una morovocazione ma non la è. Certo che no, è solo che molti che si intende di economia capiranno che è un'ingenuità dire che con i soldi di tutte quelle cose lì si offre un pasto, si offre un pasto, si offre una casa, si offre tutto. Ah, è che è un'ingenuità per difetto, diciamo. Sì, è un'ingenuità per difetto, è una valanga di denaro. Comunque io adesso appo un piccolo siparietto perché voglio ringraziare all'inizio, non alla fine, tutti quelli che si sono messi in contatto con noi, che si sono per così dire sintonizzati con Rai Radio 3, alla Musica della Vita, per ascoltare i miei interventi. Tanto voglio dire che i miei interventi li ho condotti nella piena coscienza di essere qui a rappresentare tutti quelli che non ci saranno mai qua, tutti quelli che vivono nell'ombra di un destino mancato. E quindi, in un certo senso, io ho avuto questa responsabilità. L'altro momento importante è che non si deve sintonizzare solo con Rai 3, ma anche ogni giorno con se stessi. Come si fa a sincronizzarsi con se stessi? Perché altrimenti, quando voi sentite che la vostra esistenza gracchia, che c'è qualcosa che non va, vuol dire che non siete sintonizzati con voi stessi. Gracchia fa proprio quel rumore sbagliato quando un cardine non è oliato. Naturalmente ci sono i disturbatori di frequenza, lo sai, no? Che sono le sigarette, lavorare nove ore al giorno, le menzogne. Che creano un asservimento, immagino. Sì, le cose soprattutto che dirottano da se stessi. Sintonizzarsi con se stessi significa questo, che ci sono quattro stazioni radio nella nostra personalità che sono fondamentali. Uno è la stazione della serenità. Dobbiamo sintonizzarsi con la serenità. Non è che arriva così. La serenità è uno status che consente, prima di tutto, di difendere la propria libertà. Come si fa a sintonizzarsi con la seconda stazione che è la libertà? Tagliando tutti gli ormeggi in modo che la nave della nostra creatività può andare in mare aperto. Perché più ormeggi ci sono, più è difficile andare nel mare della creatività. La creatività è appunto il terzo punto con cui sincronizzarsi ogni giorno. E l'ultimo punto è il dato economico, è il dato lavorativo. L'ultimo è quello con cui si sintonizza per dire ma è proprio necessario che io devo andare a lavorare nove ore al giorno e perdere tutta questa vita. Per che cosa? Per cosa in cambio? E questo lo volevo dire all'inizio perché è una preparazione alla vita che ogni mattina la persona, magari anche nella metropolitana stracolma di persone disperate che vanno verso un destino che non è il loro, magari anche lì si può sintonizzare. Ma deve farlo ogni giorno. Sì, perché ogni giorno è in realtà l'unica vita vera che c'è. Dicevamo in una delle scorse puntate, una delle scorse domeniche, in fondo come se bisognasse rinascere ogni giorno, sforzarsi. Naturalmente qui ti diranno tutti sì, ma i figli sono un ormeggio e la moglie sono un ormeggio. Ecco, questo è un argomento, è un'obiezione. Risposta, sostituite gli ormeggi con delle ancore in modo che ogni tanto tirate su l'ancore e ve ne andate anche dalla moglie, anche dai figli, purché non ve ne andiate sempre da voi stessi. Quindi le ancore, quando arrivate in porto, le calate e quando volete andare nel mare della creatività, che non costa nulla e che vi dà delle cose fantastiche. Pensate, mi rivolgo soprattutto ai fumatori, mi rivolgo soprattutto ai bevitori di caffè, che il fumo e il caffè sono stati pensati, guardate bene, non per guadagnare del denaro, sapete, perché il potere del denaro non sa cosa farsene. Ma sono stati pensati per impedire a voi di secernere le endorfine, che sono una sostanza chimica fantastica, che il vostro cervello secerne quando voi siete sintonizzati con voi stessi e che vi dà addirittura, dicono gli esperti, le stesse emozioni dell'oppio e della morfina. Le endorfine, il caffè e il fumo impediscono per sempre questa beatitudine che la natura ha previsto e che non costa nulla. Ed è un altro pezzo di libri. Io e Diana Vinci, curatrice del programma, siamo molto fieri per aver smesso di fumare proprio ultimamente, quindi siamo tutti come dei pavoni a queste parole. Verrà un tempo in cui le persone non inizieranno di fumare, oltre che a smettere. Il tema di Luci della ribalta di Chaplin, l'elaborazione a Flaudo di Pan di Georg Zamfir, straordinario artista in uno strumento così suggestivo. Silvano Agosti, tra i messaggi che sono cominciati a pioverci, ce n'è uno da Milena, che dice Ho visto il suo film D'amore si vive qualche anno fa, posso dirgli che mi ha salvato la vita? Se è troppo, beh, allora è stato un bel contributo. Bene, intanto... E' importante per un artista una cosa. Salvare, spero davvero la vita, Milena, perché la vita non è l'esistenza, e la vita non ha mai bisogno di essere salvata. È l'esistenza che mette a repentaglio il nostro esserci, e l'esistenza a volte pesa veramente troppo. Ma voglio dire una parola su Charlie Chaplin. Perché abbiamo messo quella musica lì? Perché il mio padre adottivo, che sarebbe Charlie Chaplin, mi viene in soccorso quando faccio fatica a sintonizzarmi con me stesso, con le sue straordinarie trovate, non solo con le sue immagini di omino, sempre contento del nulla, ma anche con questi discorsi che lui ha fatto, dei brutti. Per esempio, quando io sento tutte queste... ciarlare sulle banche, allora mi viene in mente che lui dice, nel Finlandia del grande dittatore, dei brutti promettendovi delle cose, sono andati al potere, vi hanno tradito. Capisci quelle cose lì? E dico, ma come? Lui le diceva che c'era ancora Hitler al potere. E Hitler ha visto questo film, capisci? È un bellissimo discorso. E bisognerebbe proiettarlo in Parlamento, tutte le settimane, magari il lunedì. E invece è spesso proiettato all'azzurro Scipioni. No, io dico solo il discorso in Parlamento. Il Parlamento attualmente non è degno di tutto il film. Non tutto. Per fortuna. E tra l'altro ricordo delle cose, perché questo fantasma di Charlie Chaplin, molto suggestivamente è un po' ritornato nei nostri incontri, perché in un sogno si era lamentato con Silvana Agosti della mancanza di un cinema nel quartiere dove oggi sorge l'azzurro Scipioni. E un altro motivo importante per la vita di Silvana Agosti è una specie di pellegrinaggio a Londra per vedere la casa di Natale, di questo artista immenso. In Kennington Road 96, sì, diciamo che non va confuso Charlot con Charlie Chaplin. Charlot è quello che io spesso cito quando parlo di me stesso. Dico, sta parlando l'essere umano in me. Ecco, Charlot è l'essere umano di Charlie Chaplin. Charlie Chaplin poi era lui, era la sua biografia, la sua costrizione a essere ricchissimo, la costrizione a essere solo. Un po' esiliato anche in Svizzera negli ultimi anni. Ma esiliato perché lui è stato uno dei virus più pericolosi che siano nati insieme a Socrate, insieme a Gandhi, è stato uno dei virus... Avevano preferito ucciderlo, ma probabilmente... Sì, perché diciamo l'American McCartista della caccia alle streghe non lo tollera. No, l'hanno cacciato. L'hanno cacciato, probabilmente sì. Però, ecco, questo padre adottivo mi aiuta spesso con le sue trovate, anche sulla dimensione giusta dell'amore, per esempio nella terza età, che la ballerina è innamorata di lui, ma lui è ormai, credo, un settantenne, anche se ha tutto il vigore della sua infanzia. E lui, quando lei gli confessa di amarlo, gli dice, mi ami certo, mi amerai sempre, ma un giorno le candele tremolanti incontrerai un uomo e nell'elegante malinconia del crepuscolo lui ti dirà che ti ama, che ti ha sempre amato. Che bello, questa è veramente una lezione di vita, perché non è una sconfitta, poi, dell'uomo anziano. No, poi non c'è l'uomo anziano. Non c'è l'uomo anziano. C'è l'uomo che sa più. Che ne sa di più. Che ne sa di più e quindi finalmente potrebbe, finalmente, nascere. Solo che, invece, gli dicono, caro, sbrigati a morire, perché così non ti do la pensione. A proposito, in Kirghizia, per chiudere con la Kirghizia, non ci sono le pensioni. Quando una persona compie 60 anni, e l'abbiamo già detto, ma lo ripeto volentieri, ha tutto gratuito. Conviene sempre ripetere gli ordinamenti della Kirghizia. Tutto gratuito. Tutto gratuito vuol dire, e ai bambini, diciamoci la verità, diciamocelo, che magari uno non troverà mai il mio libro, perché io i miei libri li tengo un po' nascosti. Gli ho messi solo, ecco, devo dirlo, perché mi hanno chiesto moltissimi dove si trova. Gli ho messi solo alla libreria Feltrinelli, perché è una libreria che posso controllare un po', e poi al mio cinemino. Io cito le edizioni, l'immagine. I bambini, sai perché i bambini non vanno a scuola, che giocano fino a 18 anni nei parchi? Perché i loro genitori lavorano tre ore al giorno, quindi possono stare lì con loro e trasmettere loro la grande esperienza di ciò che hanno vissuto. E per riallacciare il discorso, perché ho ben presente questa pagina di lettere della Kirghizia, le cose sono... non c'è bisogno di pensioni, dicevamo, perché c'è una gratuità di tutto. Gratuità, cioè non pagano, vanno al ristorante e firmano il biglietto del conto, che poi sapete già quanto mangia una persona di 70 anni. Poi, oppure vanno al cinema, prego, si accomodi. Lei è la parte più importante del nostro paese. Lei è arrivato all'altro lato. E nel momento anche in cui hanno commesso dei delitti, il compimento del sessantesimo anno di età in qualche modo li assolve. Non solo, ma nessuno va in prigione. Nessuno va in prigione. I ladri, se per caso ancora c'è qualcuno che ruba, in un paese dove le porte delle case sono tutte aperte, dove quei soldi che prima si spendirono per le serrature, si è addirittura provveduto a dare un viaggio gratuito a tutti in tutto il mondo quando vogliono. Per cui, figurati. Se ancora lì qualcuno, non so, qualche persona malata, ruba. Qualche matto, diciamo. Qualche matto ruba. Non va in prigione, ma deve vestirsi di giallo per otto mesi. E tutti quelli che incontra per migliaia di volte gli domanderanno, ma perché sei vestito di giallo? Ma perché un giorno mi è capitato di rubare, capisci? Questo sostituisce degnamente le prigioni, insomma. Sì, attualmente invece in Occidente non basterebbe il giallo del sole a vestire coloro che rubano. Certo, bisogna fare un po' di vernice. Eccoci qua le musiche della vita quando sono le 14.25 di domenica 30 ottobre con Silvano Agosti, mentre ascoltavamo questo adagio dal concerto numero 5 per Pianoforte, imperatore di Beethoven, eseguito da Daniel Barenboim. L'orchestra, la New Philharmonia Orchestra, era diretta da Otto Klemperer. Ne sentiamo ancora come svolazzanti nell'aria delle note. Dicevamo forse il più bello adagio della storia della musica. Beh, diciamo che per me è stata una rivelazione. Io ho collaborato in modo abbastanza cospicuo a un film su Otto Klemperer e quando ho sentito questo straordinario pezzo musicale eseguito da lui, da questo pianista indimenticabile, ho scoperto che questo adagio ha un inizio con la struttura tipica del finale di un concerto. è come se iniziasse concludendosi. E allora mi ha fatto riflettere, ho pensato, penso che è bello se la vita potesse concludersi. Se fosse un'immagine della vita. Iniziare come si concluderà e concludersi come è iniziata. Ma la vita, io credo che adesso è l'era in cui sta sorgendo l'immenso rosso di vergogna di tutti quelli che impediscono in un modo o nell'altro che la vita duri la sua durata. C'è troppa morte precoce e questa morte precoce è la sigla del potere attualmente al potere. E bisogna che anche questi che sono erroneamente chiamati potenti, perché in realtà sono tutte le persone impotenti, incapaci di capire l'essenza della vita, bisogna che questi intuissero che anche loro possono avere un barlume di eternità se la smettono di ammazzare la gente, se la smettono di farla morire, se la smettono di mandare i camion sull'autostrada, se la smettono di fare le guerre, se la smettono di chiudere l'incarcere, pensate che cosa è terribile, se la smettono di congratularsi e andare a cena con i cartelli della droga, se la smettono di fingere che ci sarà una riforma, che farà che qui che là, capisci? La devono smettere di essere così mediocri e la mediocrità è l'altra sigla di chiunque si trovi al potere. Noterete che quando una persona riesce a dire delle cose vuol dire che nella realtà non ha nessun potere, ma forse ha la sua giusta naturale potenza, la potenza di essere ciò che è. Quindi io ho fatto... Che è un po' Sto pensando quando si fa un lavoro con persone come Otto Klemperer e i grandi artisti hanno questa, immagino, questa, non un'aura di tipo metafibra, una soddisfazione, una libertà. Sono liberi. Lui era anche un spiritoso libero, nel senso che quando Hitler gli ha chiesto di eseguire la nonna sinfonia di Beethoven, lui non ha rifiutato, ha messo i guanti rossi a tutto il coro e allora di notte i nazisti gli hanno incendiato il teatro e lui ha dovuto scappare... Quanto valgono anche dei gesti spiritosi, eh? Eh? Eh sì. Va bene. Comunque, indietro, io volevo anche sapere cosa hai detto che c'era, c'era un'altra mail lì? No, c'era un nostro ascoltatore che dice, ascoltava con attenzione sia questa volta che le altre puntate, la società descritta nelle lettere dalla Chirghisia forse ha intanto comprato il libro, dice, si raggiungerebbe il karma in una sola esistenza, si sconterebbe un po' il peso che gli induisti attribuiscono alle precedenti esistenze come un peso che ci portiamo in quella nuova finché ce ne liberiamo del tutto, ci suggerisce questo nostro ascoltatore o ascoltatrice, non so perché gli ho attribuito un sesso maschile, che nel caso di una saggezza degli ordinamenti sociali la colpa e il peso del vivere si attenuerebbero. Beh, speriamo che spariscono. Comunque io sfido chiunque, anche il nostro ascoltatore, a non percepire l'immenso karma che hanno tutti i bambini da 0 a 3 anni, da 0 a 4 anni. Hanno un karma talmente potente che è impossibile ignorarlo. Per questo piangono? No, loro piangono quando il loro karma viene devastato dalla mediocrità di chi li circonda. Ma guarda che, anche se tace un bambino, ha un karma fortissimo, solo che sai una cosa, gli viene subito tolta una delle armi più potenti che lui ha per mantenere vivo il karma, che è l'arma del perché. Sai che lui verso i 3-4 anni chiede perché di tutto. E poi non chiede mai più il perché. Si è così devastato con il stupendo segmento che va dalla causa all'effetto e dall'effetto alla causa. Quindi io vorrei invitare questi ascoltatori, anche... Si rompe l'equilibrio dopo. No, io vorrei proprio invitare tutti a non farsi truffare dall'esaminare solo gli effetti e mai le cause. Perché ogni effetto ha una sua causa precisa. e una volta individuata la causa la persona è libera anche di noi. Dovremmo essere capaci di mantenersi come quei bambini che certe volte fanno impazzire i genitori chiedendo sempre perché, perché, il perché del perché. No, loro non fanno impazzire, rivelano la follia dei genitori. Beh certo, bisogna rovesciare. Perché ti posso anche dire che quando per esempio un mio figlio mentre montava uova di garofano veniva ogni 30 secondi a tirarmi la giacca e a dirmi Daddy, cos'è questo qua? Io provavo un piacere infinito a interrompere anche la cosa più preziosa che stavo facendo che era il mio film. Secondo me il bambino va semplicemente lasciato in pace. Ma non solo il bambino, come dico spesso anche le donne e l'Africa vanno tutti e tre lasciati in pace. Questo è una terna di cose da lasciare in pace. Bambini, le donne e l'Africa. Questo bisogna ricordarselo. Ma non è difficile, purtroppo è difficilissimo in un'umanità che vuole a tutti i costi portare il latte gliofilizzato in un paese dove hanno rubato persino le radici degli alberi. Abbiamo parlato un poco di questa, ne avremmo voluto parlare di più insomma perché Silvano Agostio oltre diciamo a dei film diciamo con soggetti originali e quello che oggi si chiama un po' come categoria commerciale la fiction ha realizzato anche dei bellissimi documentari e tra poco ascolteremo un pezzo abbiamo parlato appunto di Otto Klemperer abbiamo in scaletta oggi delle degli ascolti musicali che riguardano anche appunto figure di musicisti che ha conosciuto a cominciare dai nomadi con Guccini in un concerto bellissimo di una trentina di anni fa si rincontravano dopo dieci anni un incontro infatti Guccini e i nomadi per suonare ancora insieme per suonare ancora insieme è davvero emozionante adesso noi ne ascoltiamo un brano poi parliamo un poco anche di questi dell'incontro tra il regista Silvano Agosti e questi artisti ma no regista e non Silvano Agosti anonimo del ventesimo secolo come abbiamo a volte detto la canzone del bambino nel vento Francesco Guccini con i nomadi parlavamo del documentario realizzato da Silvano Agosti che si intitola un incontro perché era un nuovo incontro dopo dieci anni di separazione tra Guccini e questo gruppo che era stato l'aveva accompagnato nei suoi primi passi anche reciprocamente poi sì sì siccome io avevo chiesto a Guccini di non bere per quella sera io devo dire la verità non avevo mai sentito nominare Guccini ah quindi eravamo proprio nella però il risultato è non si prego nulla no ma lui il film è molto molto particolare è molto diverso da come uno lo possa immaginare non è solo la registrazione di un concerto ma alla fine delle riprese lui mi ha avvicinato con quella sua montagnosa bonarietà e sai cosa mi ha detto Agosti come si fa a essere artisti senza bere però insomma c'erano parecchi argomenti come abbiamo ascoltato sì 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 no ma lui è una persona veramente una roccia sì io ho incontrato molte persone sì ecco perché stavamo parlando adesso ci abbiamo per esempio anche in programma Georges Pretre insomma musicisti abbiamo parlato di Indira Gandhi abbiamo parlato di chi è la persona quali sono le persone che lasciano un segno insomma ma guarda se tu mi chiedessi qual è la persona più importante che ha incontrato nella mia vita mi verrebbe voglia di dirti una cosa più poetica che reale di dirti guarda la persona più importante sarà quella che incontrerò uscendo di qui la prossima che incontrerò trasformare il passato in futuro imminente insomma pensa che mi devi credere io sono stato invitato da tutte queste persone che ho incontrato persino da Indira Gandhi e persino da Berman sono stato invitato ad andarli a trovare anche Fellini e non ci sono mai andato non ho mai voluto andarli a trovare perché ho pensato loro sono già a posto mi interessa di più trovare l'essere umano in chi è lì con la timbro frontale del netturbino dell'operaio del farmacista diciamo del ruolo e così invece di andare a ritrovare Berman che peraltro sono personaggi che quando li hai incontrati due volte li hai incontrati per sempre perché sono di una semplicità completamente diversa da quelle che gli apparati gli attribuiscono ma io invito gli apparati anche la critica ma sì anche i giornali vogliono a tutti i costi che uno che è a comando di qualcosa sia speciale comunque io invito le persone abbiate il coraggio di andare a incontrare chiunque chiunque vedrete che vi assomiglia moltissimo in ciò che è bello e in ciò che purtroppo è non bello è costretto ad assomigliarvi di meno anche se non sarà sempre come nella Chirghizia dove basta chiamare direttamente il primo ministro per essere ricevuti beh adesso diciamoci la verità la Chirghizia non è altro che un paese basato sul buonsenso invece che basato sul lavoro questa facenduola del basato sul lavoro è una delle cose più feroci che si siano mai scritte quindi e poi la costituzione della Chirghizia ha un solo articolo non ne ha tanti uno solo che non è neanche scritto perché tutti lo sanno a memoria vuoi sapere qual è? qualsiasi progetto deve essere concepito e realizzato per il benessere di tutti di tutti non di alcuni non di quasi tutti e non c'è nemmeno bisogno di scriverlo perché deve rimanere nella testa deve essere un istinto ma sì ma non è difficile non è difficile eh questo sarebbe non è difficile comunque che per Chirghizia si intende il diritto di ognuno di noi a immaginare una modalità diversa di trascorrere il tempo misterioso prezioso e unico della vita è un diritto almeno di immaginare che non ci sono più macchine nelle strade pensa io l'altro ieri ho immaginato Roma senza le macchine è un vero shock ma le macchine io ho capito sono come le pustole sai quando uno ha la rosalia o ha una malattia grave le macchine sono proprio le pustole di un regime incapace di fare qualsiasi cosa a favore di tutti è sempre a favore di qualcuno è sempre a favore di quello là che così dopo verrà magari in tua aiuta allora per scendere ancora più vicini al livello della pratteria e del mare a me piacerebbe che ogni persona davvero difendesse questo diritto alla vita cioè ad avere il tempo per vivere e il tempo per capire l'immensità della vita mi piacerebbe che ogni persona dicesse scusa oggi non sono molto sintonizzato con me stesso meglio che non mi frequenti e poi magari ritrovando lo strumento prezioso della causa effetto scoprire che la gastrite non è venuta perché poi invece non si fa mai così si cerca sempre di fare delle prestazioni o magari di essere molto disinvolti quando nel cuore hai lo strazio mettiamo però io voglio dire quanto è vero prima di andare dal medico cercate di capire la causa della gastrite che avete oppure del mal di testa ma il guai è che vogliamo fare bella figura anche col medico a volte nemmeno siamo in grado di chiedere aiuto al medico perché bisogna ma alcuni ascoltatori che ci seguono evidentemente si hanno seguito per tutto ottobre ma oggi si trovano di fronte anche magari a delle definizioni più memorabili più lapidari dell'istinto insomma ancora una precisazione magari un flash un telegramma su una precisazione come si distingue bene la vita dall'esistenza questa è una cosa che ha molto colpito semplicissimo ci distingue c'è la stessa differenza che c'è fra l'aria che è la vita leggera immensa invisibile e il marmo o la pietra che è pesante ci vogliono sempre sforzi per portare avanti ogni volta che fate uno sforzo vuol dire che state esistendo ogni volta che fate malgrado i grandi regimi abbiano esaltato lo sforzo come una forma di eroismo secondo me è una forma di involontaria idiozia perché chiunque faccia fatica vuol dire che sta sbagliando qualcosa a meno che ovviamente non lo sia obbligato c'è anche l'obbligo dove c'è la costruzione io sto parlando proprio di questo cercate di di spiegarvi con chi vi sta vicino di dirgli guarda se tu non sopporti più che la gente e il mondo si basi sulla menzogna decidi da oggi di smettere di mentire qualsiasi sia il costo della tua decisione e vedrai come ti senti leggero e quella lì è la vita che sta cominciando ad entrare è un ormeggio che viene quante scelte meravigliose le esperienze di documentarista di musica di Silvano Agosti ci hanno suggerito soprattutto oggi questo era il concerto per violino e orchestra opera 64 di Felix Mendelssohn seguito da Uto Ugi era George Pretre che dirigeva la London Symphony Orchestra e questo è anche stata un'esperienza immagino molto ricca molto intensa sì sì ma anche quella con Uto nel senso che Uto è un personaggio perfettamente simile alla propria infanzia lui è stato messo da quattro anni in una stanza con un violino e non è più uscito da quella stanza lì un po' un po' come i grandi poeti che vivono tutta la vita scrivendo poesie e mentre alcuni nostri ascoltatori almeno uno invoca per Silvano Agosti le primarie immagino quella del PD in cui in questi giorni si è volto ma non mi sembra molto interessato a questa ipotesi il nostro ospite io lo inviterei dato che ci ha abituato anche a un momento di poesia un appuntamento nell'appuntamento scherzando diceva o non so quanto scherzando diceva che oggi ci avrebbe lasciato un testamento ma no io siccome fra le poesie che mi sono giunte dall'essere umano che è in me ce n'è una che è intitolata il testamento del poeta con la quale poesia io mi identifico in modo molto profondo e potrebbe effettivamente essere il mio testamento allora il testamento del poeta del resto è una cosa che mi è venuta in mente trent'anni fa quindi non è una cosa che viene in mente per via dell'età no il testamento del poeta dice lascio i miei versi a chi li leggerà le mie carezze ai ladri e agli assassini e le mie lacrime ad ogni donna sola lascio il mio sguardo a chi crede di aver visto e i miei sogni a chi non trova pace lascio i sorvisi a una divinità in declino e a te figlio mio lascio il mio tempo lo smisurato tempo di chi vive e questo era l'essere umano che dettava la poesia di silvano agosti è arrivato il momento di salutarci da parte di diana vinci emanue trevi valerio giannetti e giuseppe formisano io vi ricordo anche l'appuntamento con le musiche della vita prosegue domenica prossima io lascio il microfono al nostro renato bossa che sarà in compagnia per tutto novembre di maddalena crippa questa puntata come le altre di ottobre sono scaricabili a partire da domani sul sito www.radio3pod.rai.it